musica ma poi la prossima volta se diamo un po' più di tempo e visto quante persone sul forum vogliono partecipare quindi secondo me riesci a fare anche la parte che più gente c'è più è difficile poi mettere qui d'accordo ma lo fai in più sessioni se sei in più gente non è che lo puoi fare tutto in un giorno perché rischi di non riuscire si ma io lo fai a punti fai 2-3 match dell'inizio in un giorno a seconda di come ci sono le persone non si può fare appunti ma anche apertura classica oh my god perchè non hai giocato? vabbè sei proprio sleeker sei che cazzo devo fare ma lui è sleeker quindi fa solo le carte sarebbe stato divertente tranquilli ragazzi tranquilli 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 hai failato hai i i am ready i am ready oh my god oddio che cazzo che cazzo che cazzo non cazzo ma la devi gioca per forza sleaze non vale vedremo 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 forse per lo show per il pubblico 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 no 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 che è rosso basta per le carte no no lo dicevo fatti tu te lì non te lo diremo bisogna essere professionale non vedo male luca 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 quindi non lo so e ma io non ci sta a dire poi comunque se non ha le carte non è che puoi fare più ma sono due discorsi diversi e questo deve la possibilità di fare una cosa divertente e carina e mi sto dicendo ma tu sei venuto con l'antre cosa c'entra beh insomma una logica che è venuto con il mage sleeker c'è di proprio facere tra l'altro il mage bot pure cioè ma tu dici che potevo tirare a deathling quello serve eh quello ti sta dicendo ah no io credo che non ti piace a sto mage a credere no ma che cazzo ne frega no vabbè certo deathling si si poteva tirare però devo buscare la partita eh vincevi io stesso eh mica è bello e scartavo pure tutta la mano scartavo due fireball l'antoni era 8 di vita non aveva niente in mano ho capito ma io quando lo fillo senza l'antoni da essere parte ma no forse comunque con shadow play le voci non le regista con dick story si con shadow play non ne sono sicuro se le considera anche eh non ci ho pensato se non le considera anche ci metterò musica sotto e le velocizzo cazzo di dick story mi dava problemi a perdere il cacchio di microfono ah non c'è significato di speccutare il video portarmi in skill e ecco mi sembra che mi sia piantato ma se ho fatto come ha fatto a te posso di ho fatto come ha fatto a te 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 in quel forma ti ho fatto come ha fatto a te guarda guarda Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.